Attenzione, video altamente volgare, si sconsiglia a quelli più piccoli di guardarlo, perché contiene linguaggio esplicito e scene sessuali. Per tutti gli altri, buona visione. Ehm, Shin, credo che tra poco dovremo fermarci per fare benzina. Sì, certo. Ma, ma, ma non ti sei fermato? Allora ci fermeremo alla prossima. Oh, 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 oh Shin, fermati, fermati! Ma non ti sei fermato? Smettila di frignare, è tutto a posto. Adesso sta zitto. Ho detto sta zitto! E adesso cosa cazzo è presa la macchina? Credo che abbiamo finito la benzina. Ma grazie tante, non potevi dirmelo subito? Shin, è buio e ho paura. Tranquillo, ho un piano che risolverà tutti i nostri problemi. Sì, così, dai, continua a succhiare. Oh, perfetto. Oh, sì, dai, più svelto, continua! Ci sto provando! Ti ho detto di fermarti per caso! Shin, ma mi puoi spiegare come farti tutto questo possa aiutarci in qualche modo? Beh, secondo me era la cosa più saggia da fare in questo momento. E ora continua! Continua! Sì, è la prima volta, è normale. Ma che cazzo, Shin, ma che schifo! Che scema, ma che è? Purtroppo lo so, è questo il problema. Sì, è la prima volta, è la prima volta, è la prima volta.